Musica Ciao a tutti ragazzi, io sono Tassi e benvenuti in questo nuovo episodio di Ulissecraft Allora, oggi lavoreremo su, diciamo, un'altra seconda parte, o terza probabilmente, del nostra sala motori Perché, come vi avevo già detto, non abbiamo abbastanza energia prodotta dai nostri sapling Quindi dobbiamo un po' improvvisare E useremo infatti l'energia di geothermal Ora, sì, va abbastanza bene Ok, va benissimo, ok Allora, abbiamo degli engine, precisamente due elettrica engine, ma ce ne servono altri Quindi, iniziamo andandoci a craftare un paio di questi qua Ok, abbiamo un po' di wooden gear Che trasformeremo poi in, eh, stone gear Stone Ok, li presi tutti Eh, 30 probabilmente sono abbastanza Tipo, diciamo, 12 in totale Sì, va benissimo, ok Questi Con, eh, della team appresso Ok E, tadan, avremo delle team gear Ok, poi ci siamo dei piston Quanti pistoni abbiamo? Uno soltanto, ok Quindi, eh, craftiamoci dei piston Piston, ok Eh, ce ne servono, abbiamo detto, dieci Quindi, nove Ok, e No, ok, devo fare forza così Eh, dovrò fare engine, ok Eh, eccolo qua Che cavolo è questo? Mmm, questo non è la mia idea di che cosa sia È nuovo, quindi, ok Lo andrò a vedere Eh, allora, abbiamo fatto questo Abbiamo abbastanza glass, mi sembra E facciamo in questo modo, ok Ah, possiamo farne 15 Pugia, non 10 Ok, 9 11, va benissimo, dai Sono comunque abbastanza Allora, scendiamo giù Ehm, hopla Mettiamoli in questo modo Ok Ehm, qui dovrei smontare questo più che altro Ma vabbè, fa nulla Ora, per ora va benissimo Ok, vedete che abbiamo un biomass abbastanza Una cosa che non c'è, per esempio È del benedettissimo a lava Quindi, io voglio far uscire di lì Un po' di lava Ehm, dovrò fare per una cosa abbastanza semplice Quindi, per esempio Andiamo prima in bet Bet mode Usciamo la bet mode Ok Non posso passare perché sono all'altro due blocchi Ma, ah, ok Stavo dicendo, ah, ero un po' rarefatta lì Mi sembrava strano, ora Dobbiamo Ehm Ah, no, da qui sotto che entra Il coso Ehm, se invece facciamo in questo modo Ok, aia Vieni qua Magnet, viene È andato via Ehm Probabilmente si può metterlo Dovrei spostare un attimo questo Ok E metterlo un po' più a lato Ottimo Ehm, metterlo qui Ehm, bene E questi qua invece Posizionarli sopra Ehm, non più sotto Ok, non più sotto Ottimo Cerchiamo di recuperarli tutti Quest'acqua mi servirà Per ora No, direi di no Oh cavolo Mi avrò tutto il coso lì Ok Ehm, bene Ehm, bene E anche qua Ottimo Ehm, dobbiamo rimetterci questo biogas Poveretto È andato sprecato ormai Ehm, wrench Ok Ehm, vabbè Ora non si unisce Ma sono dettagli quelli Ehm, benissimo Quindi dobbiamo farci in questo modo E poi così Opla Quindi siamo messi Abbiamo Abbiamo abbastanza energia di lì Da qua invece Dobbiamo far uscire La lava Quindi per esempio Dobbiamo fare in questo modo Allora Uno lì soltanto Bisogna recuperare un attimo Un paio di pipe Abbiamo abbastanza pipe Lo spero Ehm, pipe Abbiamo questi Abbiamo gold Ehm Abbiamo cactus Cinque soltanto Veramente non Non ci riusciremo Abbiamo abbastanza Abbiamo proprio precisi Uguali ai nostri golden transport pipe Bene Ehm Scendiamo di qua Ok Di lì Ottimo E Ehm No Ci serviranno Un bel po' di pipe Ancora Perché doveva fare la discesa E ok Allora Ne vorrei recuperare Un attimo Un paio di cactus Dobbiamo farci una farm Il più presto possibile Non Sopra qui Perché è brutto E inutile Però In qualche altra parte Si Ehm Certo Ok Chiamo Abbiamo un po' di spazio Abbiamo qualche robina avanzata Penso di no Abbiamo finito proprio tutti i cactus Che brutta cosa Abbiamo disertato I nostri cactus Carctus Va bene Ok Di lì c'è Ce ne sono altri Ok Ah giusto Perché c'è la tinker construct anche Eccolo lì Ehm Quelli non penso funzionano Allo stesso modo Però proviamo Non si sa mai Ehm Ah giusto Dobbiamo un attimo Proviamo con la U Ah si Possiamo fare anche con questo Ottimo Questi crescono più velocemente Perché crescono anche questi frutti Che sono interessanti Sono tipo I fiori di cactus Se non sapete Se non sbaglio Non so adesso se E' così realmente Però ho letto in un'anime Cioè ho visto in un'anime Che i cactus Ehm Producono dei fiori Cioè i fiori a fine Sono le spine Perché Non avendo acqua Non si estandone molto Grandi E rimangono piccine Piccine Perché se Le spine Cioè i cactus Sono le spine Proprio perché Questi sono i loro fiori Però se non sbaglio In un mese dell'anno specifico In alcune parti Ehm Crescono quindi tipo Inventano fighe Abbastanza E ci sono proprio i fiori Piccoli fiori Però non so se Se è davvero così Ad esempio Possiamo recuperare dell'acqua Da dentro ai Ai cactus Proprio questa è Il perché dai cactus Noi possiamo Ricavare Quelle cose Per fare i pipe Di acqua insomma Quindi funziona così Sono piccole informazioni generali Che vi do ogni tanto Sono bravo anche con la roba Dai Ok Ehm Ne abbiamo abbastanza Penso che siano 12-13 12-19 Sono abbastanza Probabilmente Però Ehm Prendiamone più che ne possiamo Più che possiamo Perché Non voglio tornareci molto presto Allora Dobbiamo avere abbastanza gold Perché abbiamo fatto un po' di mining E non sono ancora passato la versione server Perché al momento Dovrò aspettare un giusto 1-2 giorni ancora Però poi dovremmo Averlo senza problemi Ok Ehm Abbiamo 4-6-8-9-10-12 Vabbè Sono andato adesso Ci saranno tutti qui Allora gold Ehm Glass Andiamo con la sandva Ok Andiamo qua Ottimo Allora abbiamo Glass Ok Mettiamone tipo Basta 32 Quindi Pipe Abbiamo 32 pipe Di gold E Ehm Mi servono Un bel po' Di Cactus Anche se 11 penso siano più che sufficienti Dai 11 sono più che sufficienti Dai Ok Ottimo Facciamo il giro E adesso ci serviranno questi Cavi Ehm Ricordate che Erano diventati un po' più complicati Da craftare Quindi Ora dobbiamo un attimo capire Se possiamo farli Oppure no Abbiamo un bel po' di diamanti Quindi potremmo anche farlo Ok Allora Sto iniziano a scendere E dovrebbe Anche dare la possibilità Di funzionare a questi Ok Passiamo da lì in mezzo Anzi Qui possiamo anche chiudere Da questo lato Ottimo Ah giusto Qui continuavo Quindi vorrò stanto mettere Un po' di pipe lì E Ehm Sì Sembra tutto a posto qui Stanno andando le biomasse E tutto il resto Ehm Quindi 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 E crediamo che stanto Un Un mega joule Viene prodotto da quei Mangiain Fin quando noi ci vedremo Qualche potenziamento Ehm Che per ora Faremo probabilmente Allora abbiamo della redstone Abbiamo Prima vediamo quanti pipe Abbiamo di questi qua Ok Sono abbastanza Abbiamo anche un bel po' di wood Probabilmente wood No ci serviranno Un po' di più Wood Ehm Redwood Dovrebbe funzionare Alla stessa maniera E ci serve Del glass Ah no Non va Ehm Ehm Ai plank Giusto Ho preso Il lenio normale Ok 15 Facciamo in questo modo E Dovrebbero Bastare Ehm Ci serve anche Red wire Wire Due soltanto Ok Ehm Se non sbaglio Per fare red wire Si faceva Dov'è red wire Ehm Ci sono troppe cose Che iniziamo con red Eccolo qua Ok Dobbiamo farci un attimo Sta roba 3 6 Bene Cuociamo Vai Boom 2 3 4 5 E 6 Ottimo Dovremmo avere una crafting qui vicino Iar Vabbè Non era abbastanza Ma ok Scendiamo giù Ehm Ok Dovrebbe Essere sufficiente Questa roba Si anche perchè Tipo Non è Tutto Ehm Qui non c'è stava nulla Quindi qua 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 Ok qua e qua Ehm Ottimo Ehm Dobbiamo un attimo girarli tutti Quindi così Ok Ottimo Ehm Questo 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 E questo Bene Quindi adesso Doviamo Tuttando Tuttando l'energia Tramite quei cavi Ehm Per far questo Io Oserei fare qualcosa di un po' più fiego Creare una CSU Vi sto avendo detto Fare un po' di Town No di Towncraft Di Di roba in più Più carina delle C2 In effetti abbiamo fatto davvero Pochetto delle C2 Tranne le cose principali Che sono i nostri macchinari Che usiamo Tutti i giorni Ehm Quindi Si Si potrebbe Fare qualcosa di bello Ovvero Una CSU PSU La CSU E' tipo Si fa con l'advance battery Ci serve sul furo anche Ehm Questo possiamo craftarlo con gunpowder Quindi dovremmo avere Gunpowder Uh A voglia Ok Nell'extractor Ehm Extractor Quello qua Quindi cerchiamo di recuperarne abbastanza Ora Il tempo che Vado più veloce Anzi Non dovremmo avere tre Upgrade No Ne abbiamo Possibile Ma vabbè Ehm Ok Quindi ci servono la bellezza Di tre batterie di queste E dei bronze Plate Ehm Abbiamo dei bronze Plate Abbiamo un po' di questi Si Ok Questi E Ci serviranno quindi Quanto in tutto Ehm Allora Wire Copper Ok Abbiamo un po' di questi Dovremmo avere anche Della rubber Ok 24 Benissimo Opla Eccolo qua Ehm Quindi Ehm 1 2 1 2 1 2 Poi cos'altro si apre la batteria Ah ok In totale 3 Quindi Ottimo Ehm Poi Un LED Dust Sul 4 Dust Ehm LED 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 Qual è LED Dovamo trovarlo Dovrebbe essere Questo Si Ok Ok 2 di questi Soltanto Ok 2 Ah giusto Mi servono 3 In totale Non 2 Ehm Un altro Ok Quale sul furo come va? 2 3 Ok Ottimo Ok Quindi Questi 3 E questi 3 Ottimo Ecco qua 3 Advanced Battery Che Beh Perché non ho fatto quanto 1 Ah giusto i cavi Sono stupido 1 E 2 E trasportano invece di 10.000 No Trasportano invece di 10.000 100.000 EU Quindi Ottimo Allora andiamo con la CSU Vedete che la CSU Tipo ha 300k Di capacità Qua sono i miei Tipo 4 milioni Quindi vabbè Dettagli Ehm Ci siamo un attimo Un po' di bronze plate Quindi facciamo in questo modo E Dovremmo Farne alcuni Ok 1 2 3 Poi cos'altro ci serviva? Beh Ah giusto queste batterie Vanno benissimo 1 2 3 4 Totale 5 Ok Noi abbiamo il forge Abbiamo un forge hammer In effetti Abbiamo questo qua Che è tipo utilizzato a metà Ok Tanto abbiamo un botto di bronzo Che useremo Ok Opla Eccolo qua La CSU Stata prodotta E di qui partirà tutto il resto Quindi Ci siamo un attimo Un paio di Cable Diamo 6 cable Ottimo Ehm Penso che questi qua Siano più che sufficienti Da far uscire Quanto è 128 Giusto Portano 128 Quindi va benissimo Questo 8000 Ehm Non dovrebbe Dar problemi Questa è Out Output Ehm Non so se ci sia anche l'input Ehm Vediamo un attimo Se facciamo MFSU C'è scritto Input Output Ehm No beh In teoria però Ehm 512 100 Facciamo così Industrialcraft Allora La CSU Era questa qui Bene Ehm Low Transformer High to low High to low No ok Non dovrebbe dare problemi Quindi questa automaticamente Può essere collegata Qui Quindi Scendiamo giù Passiamo al nostro Piccolo cunicolo qua E Di qua Quindi Andiamo a metterci La nostra cosa Ecco Lo sapevo che sarebbe Esploso Cioè era Era abbastanza probabile In effetti Quindi Di lì non va bene Ottimo Non so perché Ma Mi piace sta cosa Che non Che esplode Ehm Ora Stare che No Qua Mettiamoci questo Ehm Qui non c'è più nulla Ok Quindi Facciamo in questo modo Lo direi Optiamo per qualcosa Di un po' più semplice Ehm Craftiamoci un paio di Quei cavi Anche se in teoria Abbassavano quei vecchi Ma vabbè Cable Ehm No qua Giusto qua Cable Ehm Upla Non riesco a trovarli Sapete Energy dust Sono questi qua Che servono per fare Silver dust Giusto Si Energy dust Poi facciamo Oh interessante Quindi ci siamo un attimo Dei diamond Yeah Diamond 31 Quanti ce ne da Uno di questi Di cavi Quattro Mmm Ma abbiamo a disposizione Altri cavi Un po' Meno Brutti Che però portano abbastanza energia 8000 per esempio Non è proprio il massimo Le insolite cavi cable Sono più che ottimi Ehm No Questi sono i tin Questi sono 128 512 Beh potremmo fare anche i gold Per questo Ehm Quanto ne porta 512 Ok quindi per esempio Noi facciamo questi qua Dovremmo avere un paio di Ehm HV No non ne abbiamo Però abbiamo del Normale Iron Che possiamo Inserire qua dentro Ok E dovremmo avere Un bel po' di rubber Giusto Ehm No Abbiamo sprecato tutto Vero no Due sono rimasti Va bene Dobbiamo metterlo a cuocere Questa Ok Mmm Io Opterei Per recuperare Del rubber Di queste Ok E anche Un paio Di bone meal Bone meal Ottimo E mettiamoci un attimo A spaccare Un paio di alberi Giusto per recuperare Un paio di roba Va Opla Andiamo qua Sto facendo tutto questo Non perché Ne abbia Proprio Attualmente bisogno Però Ehm Quando Ehm Quando creerò Diciamo Il nostro piccolo E amato Ehm Diciamo Quando creerò Il nostro piccolo Amato Sentiero Quantico Che mi porterà Roba Dallo spazio Qui Quindi In diverse Dimensioni Mi sarà molto Ma molto Utile Avere Un Ehm Diciamo Un piccolo Aiutante Che è Il ninja Go Go Ehm Allora Vediamo un attimo Un fort smith Perché se no qua Non ci brichiamo Manco per domani Anche se In teoria Cioè facciamo Questa roba Abbiamo presa Adesso Allora Buttiamoci un po' di questa roba Questa 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 Questi diamo Anche Ehm Mix Force Voi abbiamo Ah va bene Abbiamo uno già utilizzato Ok Let's go Yaya Yaya Ottimo Ehm Andiamo qua Ok Super veloce Come è suo solito Opla Ottimo Opla Anche così va bene Quanti ne abbiamo 16 Ehm Non treppo dai Facciamone tipo una ventina Anche perché Dobbiamo altri Ne abbiamo Non ne abbiamo altri Però Aia Non voglio morire Ehm Però va bene così Ok Let's go 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 Home Home Ok Di qui Di qui Di qui C'è in questo modo Ok Rubber 14 16 18 20 24 Quindi avanti 20 Ehm Dovrò fare in questo modo Giusto Ehm Non posso fare quei normali Ah Vabbè Sì Sono insulated Oh Hanno arrivato i doppi insulated Finalmente Che bello Solo 8 Possiamo Possiamo anche farli tipo Quando abbiamo più tempo Anche quello si Potrebbe essere un'idea Oh cavolo Questi sono giganteschi In effetti Questi sono quelli che Generalmente usavamo Per altre robe Dovrebbero Comunque essere Sufficientemente buoni Al posto degli altri cavi Ehm Anche perché 8000 Non penso Arriveremo mai a Trasportarla Va bene Comunque collegeremo Questi piccoli impianti E daremo energia Poi a tutto questo Bel Bel cosino qua Ehm Qua Manca un attimo Un paio di stened Di stened Non so perché L'avevo levati Va bene ragazzi Ci vediamo per questo episodio Vi ringrazio ancora Per essere stati con noi Nel prossimo episodio Andremo A fare Se possiamo Vediamo se riusciamo A recuperare un paio di diamanti In più E iniziare a creare Il nostro piccolo impianto Di Upgrade Energistic Per Autocrafting E Al prossimo episodio Ciao ragazzi